Torneremo sulla cronaca dopo con la rassegna stampa, intanto andiamo però da Alessandra Canale, da Rai Pubblica Utilità per sapere la situazione del traffico. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Jacopo, buon inizio di settimana a te e ai nostri telespettatori, grazie della linea. Traffico intenso lungo le direttrici che conducono verso i principali centri urbani della nostra regione per i consueti spostamenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative e scolastiche dopo il weekend. In particolare in direzione verso Firenze dove si registrano già dei rallentamenti in città. Viabilità vivace su gran parte della regione toscana, come si evince dalle immagini che monitoriamo in real time. Qui siamo sulla 11 all'altezza di Prado, peraltro come vedete la viabilità è compromessa anche dalla nebbia, la nebbia che ritroviamo anche sulla 1 tra Firenze fino a Chiusi-Chianciano. L'altro tratto che monitoriamo è la 1 al chilometro 285. Come vedete traffico intenso in entrambe le direzioni, proprio sulla 1 rimaniamo perché c'è una criticità con 5 chilometri di code per un veicolo di Navaria e il tratto interessato è quello che va da Incisa-Reggello e Firenze-Sud in direzione Firenze. Ci trasferiamo sulla strada Grandi Comunicazioni di Firenze-Pisa-Livorno perché circa un'ora e mezza fa si è verificato un incidente che sta generando code per due chilometri tra lo svincolo di Santa Croce all'Arno e San Mignato Basso in direzione Firenze. Desidero segnalarvi sulla 12 la Genova-Rosignano dei lavori ed è chiuso lo svincolo in entrambe le direzioni, lo svincolo Carrara. E raggiungiamo la strada statale 73 Senese-Aretina per segnalarvi code per un incidente verificatosi in prossimità dell'incrocio di Le Viglie. E peraltro vi ricordo che sempre su questo tratto c'è la chiusura in prossimità dell'incrocio Palazzo del Pero al chilometro 152 per lavori. Queste Jacopo sono le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione e buona giornata a te e ai nostri telespettatori. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.